Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, come sicuramente avete letto dal titolo, anche oggi vi volevo portare uno story time. Perdonatemi, però sapete che la mia vita è fatta di disavventure e di disagi, quindi appunto ogni qualvolta che mi arriva un input di fare uno story time io ve lo propongo. Questo video, comunque questo story time, è nato da una diretta su Instagram che ho fatto una settimana fa, più o meno all'incirca, e non mi ricordo bene come il discorso sia uscito, ma appunto vi ho parlato appunto in questa diretta di una mia disavventura, non so bene come poterla chiamare, con un ragazzo. Allora, tutto questo risale ai primi mesi più o meno del 2016, quindi una roba passata, ecco. E praticamente oggi vi volevo raccontare un po' di quello che è successo, perché appunto in diretta eravamo in pochini, ho detto, senti, sai che c'è? Porto questo story time anche sul canale, che comunque lo vedono un pochino in più di persone. Praticamente, allora, mi aveva scritto questo ragazzo su Facebook, che tra l'altro, apre qui due parentesi, indovinate un po' come si chiamava, Gabriele. Che fantasia! E praticamente era un ragazzo delle mie zone, quindi comunque eravamo anche abbastanza vicini. Vi dico la verità, era un po' bruttino, detto sinceramente, tanto non penso che guarderà mai questo video, però se lo guarderà mi dispiace, però non credo. Però se lo guardi, farò una gran figura di merda, comunque, vabbè, dettagli. Praticamente, appunto, ci eravamo organizzati per vederci e ci siamo appunto visti a Como. Comunque sì, raga, erano i primi periodi del 2016, perché se non sbaglio era ancora addobbata in stile natalizio, quindi comunque sì, era, mi pare, fine 2015, inizio 2016, all'incirca comunque, vabbè. E praticamente, appunto, decidiamo di uscire, di farci un getto a Como, abbiamo fatto un giro, siamo andati un po' in giro per negozi, tutto quanto, e praticamente poi a un certo punto siamo andati in una viettina a Como, dove non passa sostanzialmente nessuno, ed era la via preferita, diciamo così, dove io e i miei amici andavamo a farci le foto, perché è una via molto suggestiva, molto carina, e quindi appunto, per stare un attimo tranquilli, per chiacchierare un attimo, siamo appunto andati in questa vietta. Persone normali avrebbero scelto un bar per parlare, noi invece una vietta, seduti praticamente per terra sul marciapiede, però vabbè, dettagli. Praticamente, appunto, stiamo lì, parliamo un attimino, scatta qualche bacio, tutto quanto, poi praticamente decidiamo di andare a fare un altro giretto, quindi appunto ci alziamo, andiamo a farci un altro giretto, andiamo da Tiger, che volevo prendermi un paio di cose, perché era un periodo che volevo, mi ero fissato che volevo un cappellino tutto quanto nero, da Tiger sapevo che c'era, quindi siamo andati a prendere appunto questo benedettissimo cappellino tutto nero. Praticamente, poi, quando siamo ritornati appunto in questa vietta, ci siamo rimessi a parlare tutto quanto, però vi dico la verità, ero io che portavo avanti il discorso, comunque ero io che iniziavo i vari discorsi, perché era una persona, e è una cosa che vi giuro non sopporto, che praticamente non parla, cioè non iniziava lui un discorso, se ero sempre appunto io che dovevo iniziare un discorso, comunque una conversazione, però vabbè, questo non è importante, ecco. A un certo punto, comunque, anch'io non è che ho sempre discorsi, cioè non è che mi viene sempre in mente che cosa potrei dire, nel senso, perché magari c'erano alcune cose che magari io gli chiedevo, però la cosa finiva con la sua risposta, quindi io non sapevo più come andare avanti, perché speravo che andasse avanti lui con il discorso. Questo non è stato, quindi siamo rimasti zitti per qualche minuto, ecco. eravamo lì con il telefono e tutto quanto, e a un certo punto lui se ne esce fuori con questa frase. Così, vi giuro, così. Che noia, non so che fare. Se anche ti stavi annoiando, o comunque, cioè, in generale, se anche comunque una persona, quando esce con un'altra persona, comunque in compagnia, si sta annoiando, non è molto carino dire che noia mi sto annoiando, cioè, fai finta di divertirti perlomeno. E vabbè, infatti io al che c'ero comunque rimasto abbastanza di merda, mi ero un attimo anche scazzato, e lì faccio, eeeh, cosa che vuoi fare? Cioè, dimmi te, il giro l'abbiamo già fatto per Cuomo, dimmi te che cosa vuoi fare. Boh, andiamo ancora un po' in giro, quindi siamo andati ancora un pochino in giro, e siamo rimasti praticamente tutto il tempo zitti, cioè, tipo, che ne so, cadeva una foglia, e grazie a Dio era un pretesto per tirar fuori un discorso. Vabbè, quindi già qui potete capire che pomeriggio entusiasmante che è stato. Grazie a Dio poi è arrivato il momento di dover riprendere il bus per andare a casa, Dio sia lodato nell'alto dei cieli, perché obiettivamente anch'io, sì, all'inizio me l'ho trovato bene, però quando ho detto appunto quella frase lì, ci ero rimasto abbastanza di merda, e quindi ho detto, voglio andarmi alla casa subito, adesso, in questo momento. Comunque, sta di fatto che appunto eriamo a casa, e lui ha avuto il coraggio di dirmi, è stata una giornata stupenda, spero di rivederti ancora. E qui, allora, io non capisco. Cioè, mi hai appena detto che ti stavi annoiando, che non sapevi che cosa fare, però mi viene a dire che è stata una giornata fantastica, e che mi vorresti rivedere. Tu hai dei problemi. Comunque, sta di fatto che, vabbè, io un pochino vago, li faccio, e sì, adesso appena mi, mi sistemo anche con la scuola, poi nel caso ci possiamo rivedere, e possiamo riuscire un'altra volta. Questo non è mai successo. Già. Perché appunto, nel mentre, è successa anche un'altra cosa, che è qui la cosa veramente, what the fuck, com'è potuto succedere? Io dove ero in tutto questo? Praticamente, nei giorni successivi, comunque, abbiamo continuato a parlare un pochino su WhatsApp, e tutto quanto, che poi, madonna santa, raga, vi giuro, una volta, mi ricordo ancora che stavo studiando, e l'ho sulletto a studiare italiano, e stavamo parlando, ed è uscito fuori il discorso, che mi piace cantare, e tutto quanto, e mi fa, ah, cavolo, qual è la tua canzone preferita? E io gli faccio, guarda, una delle mie preferite, è My Lord Will Gone, di Celine Dion, la cronasona di Titanic. Lui mi fa, ok, aspetta un attimo, raga, mi ha fatto un audio dove cantava, vi giuro, mi sono venuti i brividi, ma non perché cantasse bene, anzi, per l'amor di Dio, mi sono venuti i brividi proprio, cioè, avete presente quando una persona è letteralmente tanto stonata, che gli vengono i brividi, proprio vi si accappona la pelle, proprio talmente fa senso tutto ciò? Ecco, è successo questo. Sai di fatto che, appunto, appunto, qualche giorno dopo, mentre stavo parlando, vado su Facebook, perché all'epoca si usava ancora Facebook, adesso chi lo usa più Facebook, vedo che, appunto, aveva messo sul suo profilo che si era fidanzato ufficialmente, al che, io gli ho scritto, e gli faccio, scusa, ma mi stai pigrando per il culo, o che cosa? E mi fai in che senso? E gli faccio, no, perché ho visto che ti sei fidanzato ufficialmente, cioè, nel senso, potevi benissimo dirmelo, che io mi faccio da parte, cioè, non ho nessun problema, però comunque, volevo essere avvisato, che, comunque, ti stavi sentendo con un'altra persona, e che eravate in procinto di mettervi assieme. Lui si è messo a ridere, e mi fa, ma no, non hai capito, quello è per te. What? In che senso? Scusa, fammi capire bene, io in tutto questo, dove sono stato? Che mi sono fidanzato, senza che neanche io lo sapessi. Praticamente, lui, poi, mi ha detto, che, da quell'uscita lì, lui l'ha reputata, come se stessimo assieme. Ragazzi, vi giuro, in tutto questo, saranno passati dieci giorni, due settimane all'incirca, non lo so, ma io, appunto, mi ero fidanzato, a mia insaputa. Cioè, mi pare una cosa normale? Ok. E infatti, vi faccio guardare, levalo subito, perché noi non stiamo assieme, ci conosciamo da relativamente due settimane, non mi pare il caso, che metti e scrivi quelle cose su Facebook, perché non è così. Cioè, ci stiamo conoscendo, non si può neanche dire, che ci stiamo frequentando, roba del genere. Per adesso siamo in una situazione di conoscenza, perché comunque è così che si parte. Non è che conosci una persona, ci esci, può scattare anche un bacio e ti ci fidanzi. No. C'è comunque tutto un percorso, diciamo, tutto comunque un periodo di conoscimento, di frequentazione, tutto quanto. Questo no. Tutte quelle tappe lui le aveva saltate e ci eravamo subito fidanzati per lui. E si era pure incazzato. Si era pure incazzato, raga. Cioè, per qualche giorno lui non mi aveva scritto, proprio zero. Al che io, vedendo che lui non mi cagava e non mi rispondeva, ho detto, boh, bene, me l'ho sollevato dalle balle, anche perché, sinceramente, non è che mi interessasse più di quel tanto. Ho detto, boh, bene. Non ci stavo neanche pensando, nei giorni successivi, appunto, a questo fatto qui, che lui mi riscrive, tipo tutto un poema, scritto tipo in ostrogoto, raga, vi giuro. e praticamente, mi fa che, non voleva niente da me, perché aveva capito che io non ero la persona giusta per lui, perché mi ero comportato. In che senso? Fammi capire, perché ti giuro che non ho, cioè, praticamente era colpa mia. Infatti, io gli faccio, ma scusate, cioè, vuoi dare la colpa a me adesso? E mi fa, eh sì, perché comunque tu mi hai trattato male, bla bla bla, io sono una persona molto sensibile, cioè, quindi scusami, tu ti sei fidanzato con me, senza che io lo sapessi, però la colpa mia è perché ti ho fatto star male. Fammi capire, perché proprio lui nel messaggio ha specificato, perché mi hai trattato male, per come mi hai lasciato. Quindi, stando a questa persona, noi stiamo rimasti insieme, qualche ora, qualche minuto, non lo so, sta di fatto che appunto, io ho risposto, appunto, dopo, ma quindi vuoi dire che è colpa mia, mi ha risposto appunto questo, vi faccio, guarda, tranquillo, buona vita, ci si rivede. In realtà, non ci siamo più visti, non ci siamo più sentiti, grazie al Signore Gesù nostro. Raga, non lo so, io avrò una calamita per le persone strane, anche perché è successo di recente, anche un'altra cosa, che poi magari vi racconterò anche in un altro story time, perché questo già sta avvenendo chilometrico, quindi non mi pare il caso di stressare ancora con queste cose qui, però raga, io penso di avere una calamita per le persone malate, psicologicamente, o comunque, strane. Quindi, se anche voi avete avuto un'esperienza mistica di questo genere, fatelo sapere giù nei commenti, o comunque ragazzi, vi prego, commentate anche voi questa cosa, perché vi giuro, io raga, veramente non ho parole. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciatevi un bel mi piace, iscrivetevi al canale, escono video ogni settimana. Giù nell'info box, come sempre, trovate il link a tutti i social, a cui sono iscritto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!